Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Si continua a discutere nel nostro paese anche e soprattutto in questi giorni dell'accordo che ha siglato Giorgia Meloni sui migranti con l'Albania. Che è un capitolo di questa storia naturalmente, della crisi geostrategica. Sì, perché possiamo presumere che aumenteranno anche i profughi, i rifugiati. Tu hai titolato il tuo giornale libero, migranti in Albania ma il PD li vuole qui, boicottaggio rosso. Però siccome l'impressione che abbiamo fino adesso, da quello che sappiamo, da smentite, conferme, è che sia un gran pasticcio questo accordo. Questo lo dice l'opposizione. No, 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 l'opposizione, no, anche solo prendiamo le precisazioni, le dichiarazioni che sono state fatte oggi da destra, Fazzolare, il sottosegretario per esempio in serata ha detto che ci sarà il dibattito in Parlamento ma non il voto mentre ieri uno dei fratelli d'Italia aveva detto niente di niente. Insomma, no, ma solo per chiederti, siccome sembra un po' un pasticcio e di difficile realizzazione questa intesa sui migranti con l'Albania è questo il peggior boicottaggio? No, allora, ci sono due ordini di fattori. Il primo fattore è che la sinistra italiana fa il suo lavoro, per carità, però ogni atto del governo ci sono strepiti, urli, grida e non va bene niente. Ok, va bene. L'accordo sui migranti con i paesi terzi non è una cosa esoterica, esiste, lo sta prendendo in considerazione anche la Germania del cancelliere Olaf Scholz che è un socialdemocratico, quindi della famiglia politica a cui aderisce con altri paesi. Stanno valutando, c'è cronache dei giornali tedeschi, le abbiamo riportate anche noi, ha fatto l'accordo con i lender, quindi non stiamo parlando di cose che non esistono, stiamo parlando di cose che sono nell'ordine delle possibilità delle cose. L'accordo con Edirama risponde naturalmente a una cosa molto semplice che si chiama geografia, cioè il paese terzo prossimo è l'Albania. Risponde a una intesa che c'è tra due leader, tra l'altro uno è di sinistra, Rama, l'altro invece è di destra, quindi c'è un accordo pragmatico. Io ho conosciuto Rama, è persona molto concreta, molto solida, molto preparata e ha a cuore il suo paese. Se lo fa, evidentemente ha una sua convenienza politica, la convenienza politica è che deve entrare in Europa, quindi ha bisogno degli appoggi anche dell'Italia, non solo dell'Italia, è molto stimato. Giorgio Meloni guarda con crescente preoccupazione le tensioni geopolitiche a questo secondo fronte di guerra. Noi ci dobbiamo ricordare che ci sono milioni di sfollati ucrani. Ma perché l'Albania si dovrebbe prendere i migranti che vogliono arrivare in Italia? Perché Rama l'ha spiegato bene. No, non l'ha spiegato bene, scusami Mario, siamo persone di mondo. L'ho fatto intervistare e l'ho sentito io al telefono. No, lo so, anch'io l'ho sentito. Quindi non è che non so cosa ha detto. Nel senso che dire che l'Albania lo fa per riconoscenza all'Italia è, vogliamo dire, poco credibile. È un sentimento che esiste in politica la riconoscenza. Ho capito. Massimo Giannini, no, perché adesso stiamo ancorati, diciamo, a degli elementi di realtà e anche di realizzabilità, fattibilità di questo accordo. Perché tu sei stato durissimo, hai detto un passo.